Salve a tutti in questo video vediamo come dividere un file pdf quindi abbiamo il nostro file pdf vogliamo salvare più parti quindi vogliamo magari di tre pagine salvare la prima pagina parte oppure dalla prima la seconda e la terza in un altro file come possiamo fare mac os fortunatamente ha un programma che è il programma di default di apertura file pdf anteprima noi quindi cosa facciamo apriamo tranquillamente il nostro file pdf con anteprima ed ecco qua allora io ho salvato questo file in pdf c'è scritto prova 1 1 1 1 nella prima pagina nella seconda c'è prova 2 nella terza c'è prova 3 quindi sono tre pagine in totale allora voglio salvare ad esempio la prima e poi dalla seconda alla terza in un altro file cosa faccio semplicemente faccio file stampa ok e qua devo selezionare pagine o singole o intervallo faccio singole e gli dico solo la prima pagina voglio salvare quindi solo la prima vado qua dove c'è pdf c'è salva come pdf ed ecco qua in questo caso sto salvando solo la prima pagina quindi metto prova 1 salva adesso riapro di nuovo file stampa e gli dico questa volta che voglio salvare la seconda e la terza quindi intervallo da a quindi gli dico 2 fino alla 3 quindi in questo caso possiamo avere due documenti separati uno con solo la prima pagina e l'altro con la seconda e la terza quindi anche qua faccio pdf salva come pdf prova questa volta metto prova 2 3 e salva ed ecco qua quindi adesso chiudo il file vediamo se è riuscito correttamente prova 1 apro ed ecco la prima pagina solo la prima pagina chiudo prova 2 3 ed ecco qua la seconda e la terza pagina quindi un sistema molto rapido un saluto a tutti